Ma diciamo che viene fuori un'agricoltura straordinaria, innovata, ancorché con perdita di territorio, di superficie agricole utilizzate. Quello che è importante, abbiamo raddoppiato la superficie media, siamo passati da 2 ettari a 4 ettari, quindi l'azienda si ingrandisce, è più competitiva. Abbiamo un numero rilevantissimo di giovani, in maniera particolare di donne, che si avvicinano all'agricoltura. Il dato importante raddoppia la zootecnia per quanto riguarda le bufale e quello che è importante è che si allarga la maglia dei rapporti di affitto. Quindi abbiamo un'agricoltura nuova, vitale, multifunzionale, capace di essere il nuovo asset per il rilancio dell'economia della nostra regione. Ovviamente se siamo in grado e capaci di ripartire dal territorio. La lettura di oggi ci serve perché dobbiamo riscrivere il PSR, dobbiamo riscrivere alcune regole sul piano legislativo in questa regione, dobbiamo proiettarla come una grande opportunità per migliorare la qualità della vita alla nostra società campana.